La fede è la parte principale, la più intima di me stesso. Per dire qualsiasi cosa su di me, ma se non dicessi che ho fede, è come se non dicessi niente. Sono credente e spesso magari mi viene più chiesto come si fa a credere nonostante una malattia genetica così rara. E per me però Dio è così grande, è una cosa talmente oltre ogni portata, che veramente ogni cosa scompare. E credo anche che comunque Dio mi ha dato una vita, mi ha dato una famiglia, mi ha dato gli amici, mi ha dato un mondo dove stare. E queste sono tutte cose molto più importanti, molto più grandi di quelle con una malattia. La fede cristiana mi piace proprio questo, il fatto che tutti noi fedeli dovremmo cercare di assomigliare a Dio, però lui ci ha reso il compito facile perché è lui che ha voluto assomigliare tantissimo a noi, ha condiviso ogni cosa con noi, dalla festa al dolore alla morte.